L'aver introdotto nel 2009 il reato di clandestinità, oltre ad averlo detto la Corte di Giustizia europea, che ostacola le finalità stesse delle direttive europee, che è quella di prendere l'immigrato clandestino e di portarlo nel suo paese. Quindi contrasta questa e la finalità, perché non vè chi non veda che se io prendo il clandestino al netto dell'obrobrio giuridico di considerare reo semplicemente per il fatto di essere clandestino, ma lasciamo perdere il discorso giuridico? L'opinione sua, che non condivido affatto. No, lo so, le sto dicendo, per me è la mia opinione, esprimo una volta un'opinione. Lasciamola da perdere la questione giuridica, ma il fatto stesso che il clandestino debba essere identificato, gli si faccia un processo, lo si sanzioni con delle multe che non può pagare, ha riempito le carceri di persone che invece potevano essere rispedite al loro paese. Vede, non è così, non è così, non è così, perché questo avviene in un paese dove dopo quattro anni il Tar fa una sentenza dicendo che il voto popolare non vale nulla in Piemonte e nello stesso modo quando viene fatta una legge poi viene malapplicata, disapplicata, disarticolata, disattesa da parte di chi ovviamente poi è preposto a doverla attuare. in questo caso dall'organismo giudiziario. Io dico solo, si può accettare che questo paese sia invaso in maniera incondizionata e incontrollata? No. Oggi qualsiasi legge che non tenga conto che c'è una capacità sociale, economica di questo paese di farsi carico anche dei problemi degli altri, chiunque non ne tiene conto commette un gravissimo errore nei confronti delle prossime generazioni. Risulta che circa 28 mila che si trovano ora nelle carceri italiane sono appunto immigrati. Io dico che quell'introduzione di quel reato ha precluso la possibilità che costoro venissero rimandati nel loro paese. No, guardi, lei mi ha informato perché non sono in galera in quanto clandestini, sono in galera in quanto hanno commesso dei reati e non hanno ancora ottenuto il giudizio. Questa è l'altra mischietà di questo paese. Questo paese mette in galera le persone e poi le lascia lì in attesa di giudizio. Se deve essere dato un giudizio, come prevedeva la Bossi Fini, questo deve essere dato direttamente entro i primi mesi, entro i primi giorni, allora si accorcino i termini e si dica direttamente alle persone. In questo paese non ci può entrare. Vediamo un po' di dare qualche altro dato alla conversazione. Sara? Sì, Marco. Questi sono i detenuti stranieri suddivisi per tipologia di reato. Quelli attribuiti alla legge sull'immigrazione sarebbero il 5,6% del totale. Merita il primato quelli attribuiti alla produzione e allo spaccio di stupefacenti, che sarebbero il 29% del totale, se si dà reati contro il patrimonio. Quindi, se io faccio 68 mila totali... Una volta approvato lo svuota carcere indulto, questa gente ritornerà in strada. No, aspetti, Candiani... La questione è malposta, è malposta. No, no, Candiani, aspetti un attimo. Volevo solo dire che il 5% su 68 mila sono 3.500 detenuti. Quindi non è vero che non ce ne sono in carcere per... per il reato di clandestinità. Stiamo parlando di 70 mila detenuti, eh? Stiamo parlando di 70 mila. E questi che sono in carcere sono per la recidiva. Quindi non stiamo parlando di fiorfior di garanti uomini, eh? Sì, ma non giriamo... Stiamo parlando anche di persone che hanno fatto la tratta di altre persone. L'ho capito. Io le sto dicendo che per quel reato lì, quel reato di clandestinità, il 5% nelle carceri italiane è rappresentato da queste persone. Quindi non è vero... Ma allora forse glielo ripeto ancora perché non ci siamo capiti. Qui la questione è che la legge viene disattesa. È come se mettiamo... Allora, visto che i vigili non fanno la multa per il diritto di sosta, togliamo il reato di diritto di sosta. Non ha senso. Ma non è che viene disattesa. È che voi avete introdotto una norma pensando che siccome c'è la sanzione penale, quello arriva e un immigrato clandestino va in galera. Siccome esistono mille istituti che si applicano a tutti i reati, per i quali, per esempio, c'è la condizionale e ci sono mille altre cose, è normale che non vadano direttamente dentro. Il risultato è che per tutti questi c'è un procedimento penale, una perdita di tempo inutile, che impedisce di mandare dentro gli altri, e cioè quelli che scippano, rubano, rapinano, eccetera. Quelli andrebbero presi e mandati a casa, non mandati davanti a un procuratore pubblico, poi a un giudice, eccetera. Per dire, perché sennò sembra che io ho una posizione non chiara, io sto dicendo che la sensazione, ma forte, da parte di molti, è che questo reato di clandestinità vada esattamente, caro Candiani, contro quello che era il vostro obiettivo, perché allunga i tempi, quando invece queste persone irregolari dovrebbero essere immediatamente rimandate al loro paese. E ribadisco però un concetto, loro sono al governo, sta loro a fare le leggi, loro in questo momento non ti dicono facciamo un reato che dica a quelli che vengono qui clandestini che ti riporta il tuo paese il giorno dopo, ti dicono aboliamo il reato e lasciamoli venire qua tutti, questo non va bene. Volevo confortarla, perché uno dei punti su cui si è fatto il congresso del PD è stato proprio il tema, il governo Letta è un governo a termine o invece è la strategia, le larghe intese sono la strategia, quindi non sono solo io a pensarla, come ho detto qui, invece sono d'accordo con lei, volevo dirle, sul punto che ha posto, perché non so se gli interlocutori che sono qui in studio con me questa sera hanno fatto visite ispettive nelle carceri, nel ruolo di parlamentari, penso di sì, e se le hanno fatte avranno constatato quello che mi colpì quando mi capitò di farne, ne ho fatte diverse di visite ispettive nella mia attività parlamentare, e cioè che sarà un caso che la grande parte della popolazione carceraria è fatta da immigrati, che poi siano, attenzione, scusa Candiani, aspetta, che siano lì rigorosamente e solo per il reato assurdo, come ha detto anche il collega, di clandestinità, che è una vera e propria stortura nel nostro ordinamento, questo non lo so, probabilmente non sono anche per altre cose, ma è un meccanismo perverso, perché invece di fare una grande politica nell'epoca globale in cui il tema dell'accoglienza non nella versione demagogica o retorica, ma come grande questione che all'Europa viene posto e non si cede invece al richiamo dell'ordine, al richiamo forcaiolo, al richiamo di fuori dall'Italia, lei mi pare di buon carattere, ma ho sentito dei suoi colleghi leghisti dire esattamente le cose che io sto adesso vituperando, quindi non sto millantando. Ecco, se si pone così, non solo non si risolve il problema, ma l'Italia rischia di essere, per la collocazione geopolitica che ha sul Mediterraneo, un paese inesorabilmente esposto a ogni forma di polemica. La questione della Bossi-Fini quindi va apposta, va abrogata, è uno di quei punti gravi della storia politica recente e credo che sia uno dei... La gran parte di quelli che stanno in galera non sono, come sapete, i colletti bianchi, sono o quelli per la Bossi-Fini o quelli per la Fini-Giovanardi?